Gli oloncelli, chitarre, persino percussioni scolpite nel ghiaccio per dare vita a concerti sotto zero e l'Ice Music Festival, al Passo Paradiso, nella località del Tonale, tra Lombardia e Trentino, per tutto l'inverno si svolgeranno quattro concerti a settimana, due al giovedì e due al sabato, all'interno di un igloo a 2600 metri di altezza, con gli strumenti di ghiaccio scolpiti dall'artista Tim Linhart e suonati da maestri italiani e internazionali. Fabio Sacco, direttore dell'azienda per il turismo Val di Sole. L'Ice Music Festival sarà un'esperienza unica. È la musica, certamente, ma è la musica in un ambiente davvero particolare che vibra, fa vibrare di emozioni che non sarebbero altrimenti esperibili in alcun altro contesto. Quindi l'Ice Music Festival è certamente un concerto, ma è un incontro quasi di anima tra la musica, il ghiaccio, la neve e anche un messaggio di sostenibilità, perché questi strumenti fatti dall'acqua portano anche un'idea del fatto che questo elemento per la nostra vita è assolutamente imprescindibile. Il cartellone, presentato a Milano nel corso di un incontro al Teatro Litta, prevede esecuzioni di diversi generi, dal rock alla musica barocca al jazz. Tra gli artisti anche il violoncellista Giovanni Sollima, tra i primi a misurarsi con gli strumenti di ghiaccio e la loro particolare anima. Si suona una superficie che può essere una percussione, può essere uno strumento inventato dal genere umano, può essere uno strumento naturale. Lo strumento di violoncellista Giovanni Sollima è una via di mezzo, è un organismo vivente in qualche modo, in qualche modo in metamorfosi, perché in realtà è un organismo che poi scompare, ma in realtà è concepito dall'uomo, in questa cosa da Tim Lina, come uno strumento musicale, secondo i principi della luteria. Il suono che viene fuori è siderale, penso per chi ascolta e vede anche ovviamente, è un po' come avere di fronte un UFO. Alle discese sugli sci, ai panorami di Gherciai, alle specialità gastronomiche delle valli, si aggiunge quindi l'opportunità di un'esperienza culturale e artistica dal forte impatto emotivo. Come conferma Michele Bertolini, consigliere delegato del Consorzio Adamello Schi. Secondo me sarà una cosa eccezionale, un qualcosa in più che uscirà dagli schemi del vivere la montagna invernale, quindi non solo albergo, happy hour, spa, sauna, ma anche qualcosa in più, qualcosa di culturale e di bello da vivere. E inoltre quello che vi consiglio, se fossi un tirista, è di godervi Ice Music Festival e cena in quota. I concerti prenderanno il via il 5 gennaio e termineranno il 30 marzo. Per accedere all'Ice Dome, il teatro del ghiaccio, sono stati previsti il prolungamento degli orari degli impianti e una serie di offerte cumulative.